Grazie. 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 Buon pronuncio a tutti. Procediamo all'appello. De Martino, Bordone, Malsi, Esporti, De Simone, Ruggero, De Gregorio, Massa, Falco, Lembo, Marzina, Dinello, Cuccio. Grazie. Grazie. Buon pronuncio a tutti i consiglieri oggi che per ottimizzare i tempi di liberalizzazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno, e discursi nell'ordine della seduta del Consiglio Comunale, si avvia la sperimentazione di un software che consente la disposizione automatica del vocale in formato testo standard delle discussioni. Tale sistema individuando l'entrata in un altro articolo della società non si viene pertanto sperimentato per la prima volta nell'ordine del Consiglio Comunale. confido nella collaborazione di tutti i consiglieri di cercare di non accavallarci negli interventi e di avere la possibilità di avere i piccoli consiglieri di non accavallarci negli interventi. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 tutti. a tutti. a tutti. tutti. a tutti. a tutti. . . a tutti. a tutti. 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 . tutti. . . . leggere il problema che sei del personale. Io cerco di dire che da, diciamo, di avanzo un anno, non l'affronti con precedente, adesso mi leggono in maniera, diciamo, elementare, però come se è praticamente sempre stato personale. Allora, quando dice in pratica di sorprendenti per te, dice, devo fare un scontro ragionare, non ho bisogno di più stagionare. Cioè, io ho detto che non ci fanno passare. Però questa parte è scritta di scontro ragionare. Allora, la velocità di andare a fare il controllo è diversa da quello che avete voi, che è la fortuna di entrare e di fare quelle delle volte. Io ho avuto un po' di chi si deve chiedere una cosa che mi ha commesso, quando ti va bene, ho un po' grazie a tutti, c'è il segretario, che mi ha messo, non mi ha messo, non mi ha messo, non mi ha messo. Però, vedete, allora, insomma, quindi è confermato quello che dice, il consiglio è sposto, perché non ci sono, non ci sono, non ci sono. Grazie. 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 Bolesty. Grazie. Grazie a tutti. di raggiungere quest'altro punto, quindi di dare alla società a porto turistico di prevedere nell'anno 2017 di avere in disponibilità i termini a monte del porto e non utilizzare la società turistica. Grazie. 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 Innanzitutto, mi vuol dire che si presenta molto scarso e non un altro credo, non esauspito proprio per queste lacune che stiamo dicendo, ma soprattutto perché non ci fa capire bene quali sono poi in definitiva, proprio nello specifico, le cose che si potrebbero essere fatte. Quindi non ci sta un piano naturalizzato. Si parlava prima anche del personale, non si capisce il personale, se si vittima, come si prende. Ci fa riferimento a dei part-time verticali, che sappiamo benissimo, ci sono ragioni, ci siamo invece comunisti, siamo in grado di stagionare. Molto spesso questi part-time verticali sono una forma di illusione, i lavori stagionali, un grado di realizzazione per i lavoratori, i meravigli, i sindacali non si facciano sentire su questo punto. Grazie. 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 Questa non è un portodolistico, questa non è una società portodolistica, non sta rispettando il gioco di società, sta facendo qualcosa che non è contemplato dal gioco di società e quindi è contestabile da parte dei soci, i soci sono il comune, quindi il comune, all'ottimo, pensiamo l'ottimo di contestare queste operazioni. Invece a che cosa assistiamo? Che a virtù le proponiamo, stessa cosa dove si intenderanno le mappe materiali e informativi, ma questo fosse fatto dall'azienda turistica, il partito al comune, ma non dal porto turistico. Queste sono tutte operazioni che non sono previste da oggetti sociali. Tutte queste operazioni al rete urbano, ma che scherziamo, ad esempio interventi sul territorio, ad esempio miglioramenti dal rete urbano. Cioè, ma queste sono cose che il porto turistico può fare dall'azienda urbano. Cioè, non so, non è come se noi apriamo la salomani e ci mettiamo a prendere per la mente. Altrimenti mettiamo in un oggetto sociale, mettiamo il coraggio di mettere in un oggetto sociale per fare tutte queste cose qua. Se possiamo farlo. Non possiamo farlo perché il terzo punto che mi prevede, mi prevede ancora una volta, è che quasi stanno volendo in essere delle operazioni che danno luogo a gestioni che entrate e uscite fuori bilancio, che sono di etate dal testo unico, perché è il mio pazzo, dal 267 barra dell'unico. Queste sono le azioni che non possono essere gestite a più forte del fiancio comunale. La rete urbano, lo deve gestire il comune. Allora il porto turistico, dai soldi al comune, comunque fa la data e gestisce questa cosa qua. Non può fare attraverso il porto turistico, attraverso soprattutto delle indicazioni che riceve, questo qua è un pavolo che tu si dice che abbiamo già un'indicazione al sindaco, ma al sindaco chi ha dato queste indicazioni? Tutto a più si poteva di andare, perché il sindaco si poteva di andare, delle indicazioni che ha fatto il Consiglio Comunale. Come si diceva prima, mancano all'interno della parte, diciamo, contatto, rimando delle voci molto importanti di costo. Noi troviamo ancora un'utile di 2 milioni e 3 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 milioni. Ma io non vedo da questi costi, per esempio, la parte rispettiva si parla di investimenti datare al genere complesso, relative per altre cose che poi non sono anche visto, non anche questo, ma di come l'oggetto c'è dato. Ma questi investimenti, questi costi, dove stanno in questa parte rispettiva? C'è questa parte contabile? Cioè, a livello rispettivo è la teomis. E poi, non tantissimo, dove la teomis? Nel sub? O nell'acqua? O nel software? O nelle spese di viaggio? Non vedi, dove stanno in questi investimenti? Quindi questo parco qua è un parco incompleto, secondo me. E quindi come fare a trovare un parco incompleto e ad un parco di un parco non corrispondente, guarda, realtà, contraddittorio rispetto alla parte descrittiva. Non vi sono... si parla di contributi per le tradizioni locali e non mi sono indicato quale voce, non c'è una voce direttamente contributi. E qua il consiglio del datore non mi può dire che sta nella pubblicità e marketing, perché questo è una cosa cosa. Allora, la pubblicità e marketing può essere anche la mappa che fa la testola di gatti, questo deve essere pubblicità e marketing, ma non può essere un contributo che vai alla testa della madonna della vita, perché non è pubblicità e marketing, ma è un contributo che a differenza della pubblicità e marketing predispone un contratto sinalattomatico, sinalattomatico, ossia una prestazione o una coproprestazione. Invece un contributo non è atto di una erogazione liberale e che non vedo nella parte contatta, quindi un'altra partità che c'è in questo parco. Quindi in questo parco non solo è un po' breve, ma anche non corretto e farsi. Si diceva ancora che non è possibile approvarlo perché manca la chiarezza in merito alla comunità di alcuni costi, come per esempio il filtro dei locali e in generale, come si diceva, è un fatto che si presenta molto scarico rispetto a quello che dovrebbe essere poi da l'imprendizio, cioè che dovrebbe essere il dovere del consigliere comunale di poter avere una visione molto completa per poter esprimere il giudizio. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Il problema è che noi diciamo che non è pericolo, non è pericolo, non è pericolo, abbiamo già fatto il problema delle assunzioni, del contenuto uomo. Il problema è che non è pericolo, non è pericolo, non è pericolo, non è pericolo. Il problema è che non è pericolo, non è pericolo, non è pericolo. Il problema è che non è pericolo, non è pericolo, non è pericolo, non è pericolo, non è pericolo. Il problema è che non è pericolo, non è pericolo, non è pericolo. Il problema è che non è pericolo, non è pericolo. Il problema è che non è pericolo, non è pericolo. Il problema è pericolo, non è pericolo, non è pericolo, non è pericolo. Il problema è pericolo, non è pericolo, non è pericolo. Il problema è pericolo, non è pericolo, non è pericolo. Il problema è pericolo. E' una cosa che posso camminare. E questo, dott. Agosto Bello. Guarda, comunque abbiamo poi con le passabilizzazioni. Quindi posso camminare? Forse abbiamo una gente elettorale, forse è un genio. Allora volevo dire perché? Perché? Volevano cosa successe una settimana a finire lezioni e non si rimane. No, 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 no. Si, andiamo con la posta. La gente elettorale. Non. No, però. Se mi vede là. Si, andiamo con la polpa. Se mi vede là si, andiamo con la polpa. Si, andiamo con la polpa. No, mi... No, 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 no. No, no. No, mi.... E quindi perché la quantità è la polpa. No, spesa qui. No, scusa qui. Grazie. 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 Non solo quello di minoranza, ma quello di maggioranza dovrebbe farlo notare che nel momento in cui si fa trovare un bug si ammette che questo bug è tutto chiaro, è tutto normale, è tutto legale, è tutto legittimo. Quindi se uno fa notare delle cose non è assolutamente complisibile quello che si diceva da parte della maggioranza che non è oggetto del fatto, ma anche noi è oggetto del fatto che ne possiamo contestare qualsiasi cosa che sta, quale non c'è in chiaro, non c'è in chiaro. Poi quando scegliamo nel medico della vostra, io ti afforso il concetto, quando si parla appunto di causa dei dipendenti, questo argomento qua già l'abbiamo affrontato negli scorsi consigli comunali, anche questa cosa qua non è stata mai chiara, non è stata mai chiara, perché io ho delle sentenze portate l'altra volta al Consiglio Comunale, come si dice che certamente erano stati in legge, quindi giù c'è l'ho vantanato, la società a pagare, a pagare le minate inizibilità, perché con la legge a volte non era più ammesso da il medico intero, e quindi abbiamo accettato il medico intero, quindi sono grosse responsabilità, queste sono state fatte delle transazioni, non solo queste sono state fatte, queste transazioni, queste transazioni, la visione non sono state fatte, la visione non sono state provate, perché io non credo che se ne possa assumere la responsabilità soltanto l'amministratore della società, di avere un input da tua cosa, se non è dall'intero Consiglio Comunale, non è dall'amministrazione, dal sindaco, perché è una cosa che incide sia sulle armi della società, che sulle armi della comunale, e a proposito di queste transazioni, tutti si conoscevano, andiamoci piano a fare le transazioni, perché poi chiederemo se è già l'ufficio partecipato, un gruppo di pazienza, la segretaria, chiederemo se è stata vista corrente un'altra transazione fatta nel porto turistico, oppure là con i dipendenti che vengono licenziati e poi ne parte la transazione, e fa uno di perdere poi la causa per i clienti, eccetera. Per quanto riguarda poi la parte che si parla delle assunzioni, eccetera, eccetera, si parla di, si considera l'amore di tutti i clienti del secolo, che tutti i clienti, se non è, deve essere la terza persona che era stata presa al tempo determinante, se non è, se non è, e questa è la stata assunzionata sempre tramite quella creatatoria precedente. Io, aosco, quello che mi ricordavo, ho visto l'altra volta, affinché poi, valevolo per la creatatoria, quando si è attiva il lavoro della natura, non parte da altre, e l'assunzionio non deve lavorare in altre maniere. Quando si parla di rapporto differenziata, si parla di una cosa molto importante, porta a porta, che dice che è stata iniziale, queste cose qua, però, dice, sarà che la domina ci parla in altre zone, e però, diciamo, sempre da un punto di vista, diciamo, della competenza delle cose, dice la parola, non si dice affatto, nel senso che non si trova da nessuna parte il suo discorso di questa azione della parte a porta a porta, che, a quanto vale, la corte differenziata è stata fatta sempre attraverso queste isole ecologiche, di cui una barna grande con tutte le problematiche che stanno sorgendo, con tutte le polemiche che sorgono, diciamo, per i cittadini, soprattutto per i cittadini un po' più anziati, che magari non possono regarsi dalle 20 alle 6 e 30 di mattina. Poi, un'altra isola ecologica, dove effettivamente si comporta leggerezza, si guarda in questo vato, è l'isola ecologica di Via Madonna delle Grazie, quindi viene riconfermata questa localizzazione, questa intenzione da parte della società, di quest'isola ecologica, quando ci risulta, almeno dovrebbe risultarci, non c'è, 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 ci sono dei problemi molto, molto seri con il vicinato, e mi sembra che ci sono anche dei problemi con i locali, i locali, magari non potrebbero essere arricchiti a questa situazione, io non lo so, proprio con una domanda secca, l'amministrazione si è ancora convinti di andare avanti su questa procedura, cioè è necessario, se questa, se voi è tentata di fare questo puzzle, diciamo questo, che è anche la responsabilità di questa cosa, noi abbiamo fatto, diciamo, di accediamo, a meno questa parte, perché ci abbiamo poi dei condizioni, delle gravi, diciamo, conseguenze, eccetera, se vuoi, è tutto un danno che si dimorba a queste zone. poi si fa riferimento agli ispettori ambientali, e qua la parola che assolutamente non va bene, in questo caso, qua lo spazio è che ci si sente, gli ispettori ambientali, dove procederanno, come si dice qua, oltre al controllo della sensibilizzazione, hanno gli accertamenti, dicendo, ma che spezziamo, gli ispettori ambientali hanno gli accertamenti, ovvero, l'ufficio dell'imposto, l'ufficio di tutti, questi, gli ispettori ambientali hanno gli accertamenti, tuttavia, come la prima parte del caldo di andare bene, controllo e sensibilizzazione, queste dovrebbero fare, e non so se l'hanno fatto fino adesso, da quali sono stati nominati, sicuro, ben due anni, mezzo taglio, tanto di bandiere, eccetera. Un'altra cosa grave, che vogliamo capire, non lo ha sfruttato, ancora, non so se il marino della Pattocini, il nostro lavoro gruppo, è una cosa molto grave, rarissima, quando si parla di delattizzazione, che poi sarà depilata a parte con i costi effettivamente sostenuti. Ma qua stiamo parlando, ancora una volta, di qualcosa di illegittimo dei confronto del bilancio comunale, io non so se l'Argeniere è capo, spesso è sicuramente con la realtà tecnica, ma forse questa, in questa fase qua, magari mi sarà sfuggita, oppure mi ha saltato la pagina, perché io qua faccio notare che questo è un intervento che non è di competenza comunale, come avete detto già, come avete affermato, voi, sta scritto qua, e voi gli dite, se non è di competenza comunale, non è di bilancio, se non è così, vi posso sbagliare, dovete fare comunque la verità, se no. Puoi integrare quello che l'Asa, no? Puoi integrare quello che l'Asa ha fatto, perché l'Asa ha una serie di intervenghi, che non, come abbiamo detto Stato, questo è Stato, non lo so. Allora, se può integrare, secondo me, se può integrare, come dice il signore, secondo me, non credo che l'Asa è proprio l'interventizzazione, che viene ad essere un servizio per fare il Comune che non dovrebbe fare, con distrazione fondata, poi si terrà, non c'è. Poi, si parla di amministrazione e regolamenti comunali, per tutto quello della pubblicità, poi è un'altra cosa importante. Questi propositi di regolamenti di pubblicità, quando vende il Consiglio, quella modifica, il problema che l'amministrazione deve, eccetera, noi dell'Asa, anzi, vi danno a rivedere l'intervento regolamento, perché, effettivamente, capito che qualcosa è già una gradocia, però adesso oggi si vada di amministrazione, speriamo che sia l'anno, sia l'anno. Poi, quando mi si dice che nel 2017, l'importo delle pubblicità può essere stimato in 60.000 euro, a fronte di 10.000 euro, io ho qualche perversità, perché, innanzitutto, per questa procedura, io, insomma, è altro fitto, perché questo poteva essere anche oggetto, diciamo, di uno specifico da come è il Consiglio comunale, perché quello è successo, per quanto in qualche accertamento, quando meno flottisco, è una cosa scambola, di come si è comportata l'amministrazione comunale, perché, noi arriviamo a 60.000 euro, che secondo me non si parla di 60.000 euro, perché, per il mondo, in cui sono stati questi accertamenti, se questi 60.000 euro, non c'è scritto qua, come è stata fatta questa stima, ma se questi 60.000 euro, la stima di questi 60.000 euro è stata fatta sull'aggiù di accertamenti che sono stati emanati, allora è una stima sbagliata, perché dagli accertamenti emanati si prenderà forse circa un... un decimo di quelle che state esiste, si prenderà circa un decimo per gli motivi che sono stati poi, che sono usciti poi fuori. Noi, per quanto riguarda questo accertamento, questo accertamento, diciamo, capestro, che è stato fatto dall'amministrazione, noi vogliamo assolutamente dire che, innanzitutto, chiaramente, tutti devono andare, anzi, io sono stato uno dei periodi, se ne vado a vedere l'ingegnere di regola, il sindaco di capi, oggi, è un'ingegnere a suo tempo, quando io a suo tempo mi ha proposta, fece trovare una delibera dove è arrivato a cima forse per la prima volta a capi, con un'opera imponente di accertamento dell'elevazione, era un ministro della cassa, l'Urgan, era un ministro delle pici, cioè le tasse comunali, quindi chi vi parla è uno dei valutoni del combattimento della situazione di città, si manderebbe A, perché il mio modo è sempre stato, la sera, parlare di tutti, però c'è anche modo in modo, noi in che modo procederemo? E avremmo voluto, e anche da quale amministrazione procederemo in questo modo, almeno alcune cose importanti che avete preso dalla vecchia amministrazione, perché non sarebbe successo il caos che è successo per queste tabelle, perché diciamo, sono stati costretti a scrivere lettere a RASCOM, a FEDERATEL, a fare una riunione comunitaria, c'è tutto il diretto problema, c'è, proprio per me che non c'è, e se andiamo all'Arofuscio Tributi, andiamo a prendere ogni giorno, quante persone vuole andare là, non sapevano quando andarci, perché c'è la sparenza dei ricorsi, circa il 28-28, in effetti non sarebbe iniziale, non sarebbe passata, una semplice cosa che fa, che ho fatto io, allora ho guardato l'assessore al bilancio, e che fa tutto oggi, anche l'agenzia delle bravi, perché oggi c'è un tipo di collaborazione con il contribuente, non c'è più quello, questo è ancora fatto che quando l'agenzia delle bravi, l'ufficio in posto si presentava e aveva uno scontro diretto con il contribuente, oggi invece il quarto tipo di collaborazione, si vede appunto con gli accertamenti di adesione, e soprattutto con un'azione di prevenzione, questo è un comunità, questo è un giornale, questo è un giornale, questo dovrebbe essere solo 24, per favorire l'avventimento spontaneo, il contribuente frotto di tribunale, quindi avventimenti spontanei, l'agenzia delle bravi, chiaramente, ha dichiarato di voler proseguire, sostentire il traccio dello scorso anno, mettendo allora in disposizione delle comunicazioni inviate, di elementi in cui sono in possesso, in questo modo l'amministrazione finanziaria potrebbe realizzare la possibilità al cittadino di rimediare, prima ancora dell'accertamento che ne è proprio l'agosto in estero, quindi bastava fare un semplice reperito, un semplice avviso pubblico, e se vi permettete, come si diceva allora, avvisare i suoi professionali, e a questo punto qua si sarebbe evitato, diciamo, di mettere in atto, diciamo, questa operazione imponente che poi si ridurrà molto, questo accertamento, eccetera, eccetera, e ci sono i suoi professionali, perché hanno comprevi, né al contribuente né all'ufficio, perché il contribuente adesso la popolazione dovrà andare, sono un commercialista, sono un'aggiatta, e vedete certamente, voi dovranno apportare in distanze di atto di tutela, come suggerisce l'amministrazione, come suggerisce l'ufficio, dopodiché l'ufficio dovrà esaminare lo stato di tutela, e stanno davanti di una bella copertina, di lavoro, diciamo, viene sovratto all'altro, a soltanto l'ufficio dell'altro, cose più importanti, sarebbe passata la cosa semplice a questo. Poi, ancora, quando si parla sempre di accertamento, si dice, si ammette che questo è un accertamento induttivo, si ammette che praticamente, quando è vista la volontà di Gesù, in questi comunicati che l'amministrazione ha fatto insieme a tanti federatelli, la strastrona e altre categorie, eccetera, si dice, e poi con questo è possibile decidere la volontà, e neanche sottolineiamo, ma questa cosa qua, è previsto già dalla legge, il punto è che, cioè, viene fatto quasi passare come, io volevo esercivo come operato di due dati, non come, non come l'amministratura, ma come era tu, le altre fatte delle idee, anche che Ascom e Federale, io volevo andare con Ascom e Federale, per il senno capito 3, in che si dà, non è una processione, c'è, però, non è un avvento del contributo, ma la cosa più rata è questa, e cioè, si ammette che siamo in una situazione di obiettivi incertezzi interpretativi, che giustificherebbe l'immigrazione delle sanzioni applicate, però, poi si rimanda la valutazione all'ufficio di punto sui simboli casi, ma ci rendiamo conto, cioè, allora, il principio o passa o non passa, perché il principio è chiaro, ed è stato dito, dallo statuto del Conte del Guerre, e non ha il valore, cioè, del Conte del Cittadino 467, l'ufficio di punto che aveva disposto, di fatto sì, le distanze di autodutente, l'ha preso da vecchie stanze di autodutente, che ha fatto un'arrivo a qualche po' commercialista, quindi qualche po' commercialista, lo ha messo, ha fatto un'arrivo a questa cosa qua, e quando si è andata, verbalmente, a parlare con l'ufficio, si è sempre, si è sempre, diciamo, di più basso l'applicazione di questo principio, cioè, sul fatto che quando l'arrivo è incerta, assolutamente non si deve garantire la sanzione. E questo, però, nel principio, è unico, non si può lasciare la discrezione all'ufficio di punto. Ma, no, ha fatto ancora più bravo, mi risulta, mi risulta, da questa riunione, questa riunione della, che poi è sfociata in questo Comunità allo Stato, c'era i rappresentanti dell'Associazione, i rappresentanti della Città dei Capri, e i rappresentanti della Società dei Justi Civili, ma mi risulta, non c'è quello che dovrà firmare i progettamenti, è quello che dovrà firmare gli strati. Cioè, questa riunione mandava il primo protagonista, l'attore di un rato, si assume poi la responsabilità di firmare. Cosa stranissima. Io vorrei domandare perché non c'è questa cosa, e quali saranno le conseguenze. Perché magari l'amministrazione dice una cosa, chiaramente, chi deve firmare, si deve riterare, ne dirà un attimo. Forse non avrebbe nemmeno permesso di mettere questa, questa dizione, questo, come, allo Stato. Questo non c'è il dato conoscente. È sempre importante, è sempre importante. Non è rappresentante, ma è probabilmente... Sia prima che dopo. Certamente, certamente non è rappresentante. Non posso essere una relazione diversa, ma è stato semplice. Ma io, appunto, oggi non sono un grado, mi sapete, in parere del responsabile dell'ufficio dell'ufficio, 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 in maniera discrezionale, ha stabilitato. Quella è l'ufficio, dell'ufficio, 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 dell'ufficio. Io mi auguro soltanto che effettivamente si spegne un minuto, di questa mole di accertamento che è stata mandata ai contribuenti, che si sono visti degamitare accertamenti del 2011, ma l'attività ha iniziato nel 2014. Cioè, noi ci andiamo con... Poi, in che modo è stato fatto questo? Cioè, a me è un'attività che ha dovuto fare, effettivamente, a verbalizzare lo stato dei gruppi. Come sono stato determinati dai racchi delle da pelle? Io ho una persona che mi ha detto che è stata fatta una misurazione della da pelle di circa 12 metri quadrati. Quando andate a misurare l'acqua, sono 3 o 4 metri quadrati. Cioè, c'è stata una pelle di prezzo da 15 metri quadrati a 14 metri quadrati. Perchè chi ha dato la mia risposta? Perchè mai forse ha visto 15 metri lineari, per 10 metri che corrispondono. Adesso sono un metro e mezzo di un bar. Cioè, sono tutte cose che potrebbero comunque essere ricatti, non delle caratteri. Poi, andando avanti nella casetta del pub, troviamo ancora gli standard turistici che vengono ogni anno redutti, eccetera eccetera. però ci chiediamo ci chiediamo se sono stati aggiornati questi standard turistici non credo che questi standard turistici che sappiamo chiarissimo a che cosa si riferiscono poi nel corso degli anni in qualche modo non siano variati vuoi negli animi positivi e quindi questo parebbero variati da una cosa altra cifra che noi mettiamo in bilancio a copertura diciamo di questo di più che noi vediamo e noi chiediamo la data di servizio. Poi, confondendo nella parte non rapide delle proprie, vediamo che ci sono alcune differenze che non si sa se non si sa come vengono fuori ma abbiamo già un milione di merci non acquisti in domani abbiamo 250 mila euro di merci non acquisti in più rispetto all'anno precedente 100 mila euro si giustifica sicuramente perché c'è un fatto nuovo e questa è la delle realizzazioni a tutti i flessi che non si sa come vengono fuori che qua si va in un materiale di consumo di 15 miliardi in più si va sull'asporto marittimo e lo scarabio è la spazzatrice e lo spazzatrice elettrica la spazzatrice elettrica la spazzatrice elettrica, la spazzatrice a mano e lo scarabio si riferisce all'aumento di acquisti e prezzatura no, per seconda acquisti un milione settecenti e tre e dove si è lo scarabio? e all'interno dell'acquisto e prezzatura 85 mila che credo dell'anno scorso o era una voce non iracquista costava una volta in periodo la differenza rispetto allo scorso anno è sostanzialmente in cui un anno oltre 100 mila del attire della guerra che credeva in giocattia quindi abbiamo un'altra spazzatrice o lo scarabio? un'altra spazzatrice, un'altra scannabio e un'altra spazzatrice a mano sulla spazzatrice non so voi sarete le stesse mie notizie che alle sei di mattina facendo il rumore quella non si può discutere già no, io direi di no però se vuoi le camere allora qui siamo andati spazzati ci sono state un po' solo a piena a me le domande a mia a mia... non è giusto che sia a mia camera sia da un muore neanche questo è un discorso che faceva la popata però la popata è niente ci sono tutti quanti e vedrai che tutti quanti saranno l'ora e noi dovremmo acquistare da decine di... allora mi provocivo le... sotto la casa del sindaco ogni mattina alle 5 di mattina la non c'è passata eh? la non c'è passata non c'è passata no, poi sei qua il punto di fine ah sì, posso chiudere? ultima... 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 ultima osservazione è che dal pub e dico che ci stiamo risultando l'oltre di esercizio non c'è anno direi un risultato di esercizio c'è un utile di 218.000 euro cioè la società ha chiuso con un utile di 218.000 euro e allora non è lo stesso risultato di esercizio risultato di esercizio non c'è 10.000 euro no, prima te non c'è ma è di meno ma è di meno ma è di meno ciò si è tornato di meno è di meno è però risultato di esercizio loro è simile perché i capi non posso fa 418.000 euro allora i capi scusate i capi abbiamo detto il totale di capi almeno posto di 218 allora i capi è in grado 5.081.000 euro il senso forza allora il totale di capi è di 2.081 totale posti 4.862 4.862 4.862 ma passiamo alla dinubile cioè stiamo andando che noi abbiamo dei capi che sono riposti per 200.000 euro ma scusate ma i capi della capi selezza quali sono più importati? la capi ma scusate ma se la società è di inutile con 200.000 euro ma perché non abbassiamo la capi non ho capito ma le tasse su quei si parlano e c'è sull'ordo no scusate le tasse su quel cosa si parlano ma via le tasse non si parlano se qualcosa si parlano le tasse le tasse che le parlano le tasse su quel cosa si parlano si parlano sui utili ma se io non ho i utili quali tasse parlano? allora scusate e facciamo non ho capito e non so se non ce ne sono le tasse ma perché le ultime sull'ultime noi non abbiamo attaccolato le tasse l'ines 83.000 euro in caso che queste 83.000 euro le gaviamo perché noi abbiamo 218.000 euro di utili altrimenti non va per il questo scusate queste materie a dire quindi 80.000 euro non ci sarebbe sicuramente ci sarebbe sicuramente lì ma non 124 che scenderebbe anche lì non 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 si è non si è venuto perché i politici non hanno il fristro del virus però fatto stare effettivamente l'incremento cioè la società è sfida più quindi io gli do per i gatti in che modo ho venuto di gatti ho la gatti e allora che lo facciamo di spaccare i cittadini facendo la gatti meno tassa sui rifiuti meno tari e risparmiando i soldi allo Stato e regalare i soldi allo Stato perché poi in effetti questo è un regalo questo non è una vasi non ho capito è sempre stato previsto si ma l'utile l'orto non usciva sempre in questa maniera il problema è questo è questa è la cosa poi sempre su quanto e quanto riguarda la classe io nel 2015 per esempio un'utile l'orto di 261 quindi anche spero queste ragioni però ti confermo che la prevista è un paio di un'altra quindi fatto strato non è di questo lato può essere assolutamente altro lato ma a parte queste cose nette che non sono di carattere economico che non vanno bene ma perché noi stiamo anche a livello di legittimità di cose che vengono fatte in questa maniera e soprattutto con queste modalità grazie che vengono Grazie. 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 Sesto punto all'ordine del giorno, approvazione del piano economico finanziario del servizio di igiene ambientale, determinazione delle misure della tariffa per la gestione dei fiumi in panni dell'anno 2017. Conferma la parola al Consigliere Antonio Nesposto. Sì, la delibera riguarda la determinazione delle misure della tariffa d'anni, delle tariffe sulla base dell'approvazione del piano tecnologico finanziario del servizio di igiene ambientale. Nelle promesse è indicato ovviamente il diputo tale istituito per la proprietà integrale del servizio di pressione dei fiumi urbani, incluso i costi di smaltimento di utile degli scarichi e dei costi del servizio di smaltamento, che il piano della relazione che si adegna alla deliberazione completa di programmi di investimenti necessari, che ovviamente la legge del termine all'opportunità del Consigliere Antonio Nesposto, che è corredato anche del prospetto economico finanziario dal quale si vince un costo complessivo del servizio di 5.206.000 in usa. Appare opportuno, determinando tali costi, di confermare la determinazione della misura massima del 20% della parte variabile della rispettiva tariffa applicata, la riduzione della riva di utenze domestiche e tranne con il compostaggio, e appare opportuno anche confermare la riduzione generale esterna dell'attività non domestiche nella misura dei 40 anni. Ovviamente il piano che non può finanziare a 3.000 anni, a seguito della normativa della riva al contributo di smaltamento, la possibilità da parte dell'amministrazione di finanziare servizi e cultivi, tale da garantire il mantenimento di un elevato standard di turismo, che per i quali servizi è prevenuto un contributo dell'importo presuntivo di euro 700.000 inseriti nel teatro della regione finanziaria professionale del Comune. Pertanto si propone di approvare il piano finanziario con la legata proposta del Petro e del piano finanziario e tecnico 2017, di prendere atto del costo complessivo del servizio, appunto di 5.000.000 euro, di cui 4.000.000 euro, di cui 4.000.000 euro, di cui 4.000.000 euro, di attraverso l'applicazione della componente tassa di tutti e 700.000 euro, per chiaramente una vasta sostanza di atto turistico che sono coperti da parte del genere derivato dall'imposto di spazio. Di determinare inoltre la misura massima di lasciare inalterare sostanzialmente nella misura massima del 20% della parte variabile la riduzione del attivo al testo domestico e mercato nel compostaggio e del 40% della parte fissa e variabile la riduzione per le estreme dell'attività non domestiche. Grazie. 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 se udono servizi turistici, la società non ha dei più motivi di esistere. Tecnicamente non ha dei più motivi di esistere. Perché iniziano i due carri, ma 100 studi per vedere effettivamente quanti incidono veramente la quota di servizi turistici realmente sul ordinario della società ci ha preso 700.000 euro. Io dico che secondo me se è un imposto di 700.000 euro in aggiunta, la società non ha dei più motivi di esistere. Grazie. 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 Passiamo alla trattazione del settimo punto del ritorno. L'ipote d'Arsi, anno 2017. Grazie. Grazie. Conferma la parola all'assessore Vincenzo Ruggeno. Grazie. 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 Anche perché ripariamo il concetto che dopo varie vicissitudini connesse alla relazione dell'amico da casa e prima casa, finalmente l'amministrazione è giunta alla determinazione di non applicare la casa e la prima casa, cosa che il nostro gruppo, qui dall'inizio, si fece anche il promotore di una medizione, si fece anche il promotore di una notte del giorno del Consiglio Comunale che all'inizio dell'amministrazione fu sonoramente forciata dall'amministrazione, quindi ci compiaciamo che poi finalmente è stato poi ricevuto questo indivizio e quindi vogliamo parlare, grazie. Possiamo quindi procedere alla votazione, voti favorevoli, votiamo anche per la promediale eseguibilità, come sono? Passiamo alla relazione dell'ottavo punto in ordine del giorno, IMU anno 2017, Alipode conferma la parola alla sessore di 120. Anche in questo caso è una delibera di confermio di Arribute, non si stende nel 0,76% con la limita base, 0,40% per l'abitazione principale per il 2% solo per le categorie catastali a 1,8% e a 9%, e lo 0,40% per le categorie catastali a 1,8% e a 9% sono la valutazione, quindi conferma la testa. quindi possiamo procedere la votazione direttamente voti favorevoli una minuità votiamo anche per l'immediata seguità una minuità passiamo alla testazione della nazionale comunale conferma la parola all'assessore anche in questo caso parliamo di una conferma che è l'indicota lo 050 passiamo alla parola il consigliere invece diciamo è un segnale della politica da prese della portata l'indicota e quindi qui noi promuoviamo mi stavo dicendo ovviamente anche anche in votazione la nostra proposta direttamente di di più darminio la nazionale di quindi chiediamo di votare la nostra mozione e poi poi di 020 la 050 la 050 e quindi non avendo previsto la minore età in questo caso sicuramente avremo più da anche anche se questo è un'eventuale valide dalla parte di centri in questo momento non siamo unicamente in questa situazione la nostra proposta potrebbe essere essere così formulata noi diciamo proponiamo questa questa l'imposta e quindi dare il carico all'ufficio di provenire alle variazioni che siamo ancora in tempo di là ma quindi che vi hanno in successione a domani con questo che siamo ancora in tempo infatti il 1 marzo siamo fatti tutte di più fino a che non adesso poi dopo non ti sapete che uscirà un po' quindi riteniamo di dover nonostante la rilasione dell'assessore proponente noi riteniamo di di nella lavorazione soprattutto per la per un fatto di rizza all'ufficio di procedere alle opportune variazioni del financio che si è fatto riguardo alla parte dell'elettro possiamo quindi possiamo facciate la votazione voti favorebili voti contrai voti voti contrari votiamo anche per l'imediata eseguità voti favorebili contrari passiamo passiamo alla trattazione del decimo punto di giorno riguardante il programma priennale delle opere pubbliche per il periodo 2017-2019 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2020-2017 la parola a un assessore di licenze bugie con questa delegazione del programma internazio delle opere pubbliche interventi del 2017 previsto sul nostro territorio altrimenti non parlare esatto e vi faccio una sorta di eleganzione di tutti gli interventi previsto il recupero del campionale del campionale del lavoro integrerà nel bilancio su tre esercizi è previsto una serie di interventi di adeguamenti di edifici scolastici in particolar modo di evidenzia la messa in sicurezza dell'istituto sabbia che anche in questo caso il lavoro sarà diviso su due lotti particolare nel 2017 quindi dicembre sono del rischio per quanto riguarda le strane segni di programmazioni sia interventi programmati che una quota per manutenzione straordinaria quanto riguarda la manutenzione ordinaria è un programma si prevende una diqualificazione di fraversa pronunciare carina carne si prevende la sistemazione dell'idea del gioco di locco specialmente sui marciapieni ci sono molti motivi di pericolo e anche una sistemazione della parimentazione di varie regioni giganti assume particolare interesse e attenzione per quanto riguarda la parimentazione delle aree di marina grande dove già si sono avviati contatti sia con la sovrintendenza che specialmente anche con la regione campana è previsto la eliminazione dei barri architettoni sempre sulla scena della campana con il nuovo del ritmo posizionamento degli pochini e diversi altri atti è previsto ancora un importante intervento all'interno del centenario attorrico nella parte inferiore un'integrazione anche molto importante della pubblica organizzazione su diverse zone del territorio è previsto ancora partiranno i progetti finanzi di l'anno 2017 sia il progetto del risponito sia il progetto dell'emis palazzetto dello sport altri importanti interventi sui programmati sul trietale su 2017 è previsto anche il ripacimento della redire come già si è intavolato una discussione della città di campi che si è resa disponibile ad affrontare questi order della città di campi tale tale e tale discorso è previsto sempre sul 2017 in questo anche questo caso la formula del project finanzi l'ampliamento di rialzare volo quindi tutta una serie di interventi programmati strategici che sicuramente avranno dei grandi sacrifici sul territorio nell'ambito della programmazione triennale non risulta di aggur unicamente perché anche soprattutto il rispetto dei lavori che si stanno sorgendo da il momento in cui si vede si decide qual è la giusta strada verrà la risenita di per il motivo chiedo la promozione che piace grazie Grazie. 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 che è un progetto destinato che è stato consegnato dalla regione da Fondi di Capi e Cederci. Che fu modificato? Da Fondi di Capi. E' un progetto. Quindi in effetti, ma ne facciamo altro che dare eseguito a quel progetto. Io quello che mi dimentico, Gianni, è su argomenti strategici. Questo vanno un po' per tutte le cose. Noi le cose, o le sappiamo dei simili non ufficiali, sono tutti parlati di un sindacato. Giusto? O noi, diciamo, veniamo a sapere qualche delibera che fa leggere, sicuramente, l'intendimento, oppure, diciamo, così dalla stampa delle certe notizie. Io penso che se il Consiglio Comunale non è sottotituramente chiamata di legare il limbo su altre cose, o amando la discussione sui argomenti importanti di questo video, già, scusate, ma tutti i piani hanno avuto i lavori in buccia. Tu metti, ad esempio, già è deciso, che, ad esempio, in forza Europa deve essere fatto il progetto finale. Ma c'è stata una discussione in Consiglio Comunale, per esempio, scusate. Non è che voglio offrire il spazio al Consiglio Comunale. Non è che voglio sottrarre il spazio al Consiglio Comunale, sottrarre il compiere del Consiglio Comunale. Però, mi devi consentire che l'amministrazione, opera delle scelte, in quanto è chiamata l'amministra, adesso che poi ti posso, quando andremo a approfondire il progetto, è chiaro che sarà oggetto di discussione sul Consiglio Comunale, quando va avanti sul Porto Comunale definitivo sarà oggetto che deve essere approvato al Consiglio Comunale, ma non è in mancanza di rispetto, non è soltare la spazio. Ma tu lo sai che, questo non te lo voglio dire, diciamo, solo perché tu forse stai dall'altra parte, ma tu lo sai, questo è giusto perché tecnologie, ma quella vostra è una tecnologie che uno può accettare, io non l'ho convinto, eh, perché vengono da un'altra scuola, diciamo, di rinforzazione. Ma tu lo sai che tutta la faccetta del Porto Comunale è stata costruita, pezzo pezzo, con il Consiglio Comunale, che scusate, non lo voglio offrire, e che vengono da un'altra scuola, perché non è un'altra scuola, dove c'è stato un profondo, cioè, ah, svelo, lo può fare, per esempio, ma questo è questo, ha un'altra scuola, ma non c'è, nel 3, 2, 3, 3, 3, 4, non c'è stato ma non c'è stato ma non c'è stato ma non c'è stato è come importante noi che possiamo noi sappiamo dai siti diciamo di Lasi o il Stavio per altri non ci sono ma non ci stanno scusate sono altre le regioni campane sono altre le regioni campane che abbiamo detto vieni a quanto non ci sono d'accordo infatti un gruppo che mangano prima ma quindi gli importi che si MAX fare ma quindi non Grazie. 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 Se non ci sono più interventi procediamo alla votazione. Voti favorevoli. Voti contrari. Votiamo anche per le mediane sensibilità. Voti favorevoli. Voti contrari. Come si chiama? Che c'è qui? Ah, bene. Passiamo alla trattazione del undicesimo puntatone del giorno. Area per le indizie economiche popolari da assegnare in diritto di proprietà o in diritto di superficie. Verifica di rispita per l'anno. Il 17. Eh? Il 17. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 No. a tutti. 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 a tutti.